Bella storia, 30 anni fa Badolato era un paese in vendita, oggi Badolato concorre per essere nominato tra i borghi più, il borgo più bello d'Italia e sicuramente è tra i borghi più belli d'Italia, quindi un grande risultato e quindi anche una strada da percorrere per tanti altri borghi della nostra regione che meritano un'occasione, credo che Badolato possa insegnare tanto, ma un'azione che è finalizzata anche ad un turismo destagionalizzato che possa combinare il prodotto territorio con i prodotti del territorio e possa dare un altro modello di sviluppo ad una Calabria che ha bisogno di occasioni. Come li sostiene la regione? Ma noi li sosteniamo con un'intensazione di promozione, per esempio faremo delle trasmissioni sulle reti nazionali, Geo in Geo, che saranno dedicate proprio ai borghi più belli della nostra regione per promuovere in maniera poderosa anche questa importante offerta destagionalizzata. Siamo qui oggi per sostenere Badolato che fa parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia e nonché ha aderito anche all'associazione calabrese. Quest'anno a rappresentare la Calabria appunto è Badolato nella competizione il Borgo dei Borghi che si tiene appunto ogni anno nella trasmissione il Chilimangiaro. È un evento importante dove il borgo di Badolato che rappresenta appunto l'associazione calabrese e quella nazionale deve appunto avere quella visibilità, quella popolarità e quindi per promuovere e quindi valorizzare i borghi più belli che a rotazione ogni anno partecipano a questa competizione. Devo dire che gli ultimi anni l'associazione calabrese si sta muovendo con una serie di iniziative dove appunto stiamo lavorando per la promozione e valorizzazione dei borghi stessi. Anzi ne approfitto per comunicarvi che quest'anno ci sarà il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia in Calabria precisamente ad Oriolo e Rocchio Imperiale. Quindi invito tutti quanti a partecipare anche a questo evento dove ci saranno tutte le regioni d'Italia con i rispettivi borghi. È un'occasione per far conoscere le nostre realtà e il nostro territorio. Badolato è l'unico borgo calabrese a far parte di questa meravigliosa competizione. Partecipa insieme ad altre 19 località italiane ma appunto essendo l'unico borgo calabrese per noi è un onore rappresentarlo. Ci stiamo preparando, le votazioni sono già aperte, si può votare ogni giorno fino al 17 marzo quindi l'appello per tutti i cittadini, tutti quelli che ci stanno seguendo di votare e sostenere Badolato perché è un borgo meraviglioso, ricco di storia, patrimonio artistico-culturale interessante dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Nicola Parretta lavora costantemente per valorizzare il borgo, quindi il nostro territorio attraverso la valorizzazione di aree interne per esempio o il restauro di palazzi gentilizi pronti a diventare poi i punti importanti del turismo del nostro paese oppure anche con convenzioni con le accademie, con le università come l'ultima che abbiamo ostilato con l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e poi Badolato ha una posizione strategica perché in pochi chilometri consente di avere alle spalle le Serre Calabresi e si affaccia invece poi sul Mar Rionio, quindi una posizione importante, chiunque arriva nel nostro paese rimane abbagliato da questa bellezza Grazie